Ciao a tutti e benvenuti in un'altra parte! Oggi faremo una sfida che consisterà in una sequenza con la fune. Allora praticamente una alla volta dovremo iniziare a fare 20 salti in avanti normali, 20 alternati, 10 incrociati e 5 doppio, oppure uno normale e uno doppio. Chi si fermerà viene eliminato e chi riuscirà a fare tutta la sequenza vincerà. Ok, siamo arrivati all'ottavo incrocio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Prima incrocio! Vai Marki! Ciao a tutti! 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 Bye Emi Bye Emi Prima doppio Brava Bye Emi Maravissima Settimo Vai Noemi Quattro Beh Vai Lusi Bye Emi Peccato Finito Ok Chi ha vinto? Emi Brava Emi Ciao a tutti Ci rivediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti